Musica Oggi ci siamo recati a Piasco, quindi all'imbocco della Valle Varaita nel Cunese per conoscere una realtà che ormai può vantare 30 anni di attività, 30 anni lunghi di storia, di iniziative sempre nel segno del sociale della cooperativa, quindi nel suo significato più puro la cooperativa Il Casolare di Piasco Sergio Gerardi è uno dei soci storici di questa cooperativa una cooperativa che negli anni ha sempre mantenuto il suo marchio, il suo imprint e la sua vocazione cioè quella di essere una cooperativa sociale innanzitutto Sì certo, la cooperativa nasce nell'81, fra 15 giorni compieremo i nostri primi 30 anni già all'inizio naturalmente è nata come cooperativa agricola ma al suo interno aveva già la presenza di persone che comunque avevano delle difficoltà a trovare lavoro, delle difficoltà nella società e quindi già da allora ha avuto quello spunto, quell'idea di fondo Nel 94 poi siamo diventati cooperativa sociale, quando è stata la legge 381 delle cooperative sociali le ha istituite e quindi siamo anche cooperativa sociale Le attività che noi svolgiamo sono in campo agricolo perché siamo dei produttori agricoli qui siamo nel nostro centro aziendale, abbiamo la stalla con le mucche da latte abbiamo circa 200 capi di mucche da latte più altre le piemontesi per la carne il latte lo trasformiamo in parte nel nostro caseificio abbiamo appunto vendita per la vendita dei nostri prodotti e prodotti di aziende associate vendiamo anche il latte crudo direttamente con i distributori ne abbiamo un paio qui a Piasco, prossimamente apriremo anche a Busca e a Costigliole e facciamo anche manutenzione di aree verdi per diversi comuni, diversi privati e abbiamo tutto il discorso della campagna sia come frutta sia di produzioni relative alla stalla quindi fieno, mais e quant'altro Che tipo di difficoltà comporta gestire una cooperativa che è sia agricola ma anche sociale? Come coinvolgete chi ha bisogno di aiuto in un lavoro che può essere anche rigenerante dal punto di vista mentale e fisico? Sì, il problema maggiore è quello economico, cioè quello di riuscire a fare quadrare i conti perché si tratta di essere sul mercato normale, quindi lavorare nell'economia normale stando al passo anche di aziende che lavorano per puro profitto quindi non hanno sicuramente dei ritmi e delle attività lavorative che invece come le nostre sono più modellate attorno alle persone noi abbiamo più del 50% dei nostri lavoratori che appartengono a quelle categorie che la legge definisce di svantaggio sicuramente sono persone che hanno delle capacità, delle potenzialità che riescono anche nel tempo a dare una resa però sicuramente sono persone che hanno dei limiti, delle fragilità e il lavoro deve essere modellato su questa loro caratteristica Parlavamo di potenziamento della rete di vendita anche attraverso ad esempio dei distributori di latte questo significa avvicinare il produttore al consumatore in un'ottica però umana cioè far arrivare il prodotto sul luogo di produzione quindi mantenerlo ancorato al luogo di produzione e al tempo stesso vendergli anche la faccia di chi lo produce che è poi il senso di una cooperativa se così vogliamo Certo, sicuramente il nostro obiettivo è di fare quello che diciamo quindi bisogna sicuramente avvicinare il produttore al consumatore mettendo la propria faccia, mettendo la propria responsabilità, la propria serietà e sicuramente il nostro obiettivo è quello di creare un mercato di persone che conoscono i nostri prodotti che li apprezzano, sicuramente dobbiamo fare dei prodotti che siano buoni che però vengano anche a conoscere la nostra realtà vengano a conoscere e a capire che in tutte le fasi produttive c'è la presenza di persone che comunque sono di fatto tagliate fuori dal mercato del lavoro in qualsiasi altra attività nonostante questo riusciamo a fare una produzione di prodotti anche di una certa qualità che possono competere sul mercato normale per cui questo è anche un motivo di ambizione da parte nostra e di grande gratificazione per queste persone che vedono coronato così il loro sogno prima di tutto di avere un lavoro in tempi nei quali il lavoro sta diventando quasi un lusso per le persone con difficoltà e dall'altra parte comunque essere capaci e consapevoli che attraverso il loro lavoro riescono a produrre qualità anche Carolina Rogero è funzionario Fedagri e Fedagri in questo senso ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'agricoltura sociale che quindi implica non solo la produzione di qualità e vicino al consumatore ma soprattutto il coinvolgimento sociale di chi vi lavora Fedagri congiuntamente all'altra federazione di conf cooperative è interessata all'argomento sia Federsolidarietà e ormai da tempo interessata nonché promotrice dell'agricoltura sociale tra le proprie associate infatti nell'attuale scenario economico la multifunzionalità deve essere un'opportunità che le nostre cooperative devono saper cogliere e l'agricoltura sociale rappresenta uno dei modi per diversificare la propria produzione ottenendo sia un reddito aggiuntivo ma anche un'occasione per fare del bene sociale La cooperativa Il Casolare di Piasco ne è un esempio incarnato perché in 30 anni di attività ha veramente rappresentato la cooperativa sociale nella sua essenza Esatto, infatti come abbiamo potuto vedere è proprio un esempio riuscito di agricoltura sociale che noi vorremmo portare ad esempio alle altre cooperative in modo da poter appunto sfruttare queste opportunità che l'ambito sociale può dare congiuntamente all'agricoltura Grazie a tutti